Una tabella sulla faccenda delle tasse che oggi è tanto di moda, c'è questa parola d'ordine che anche la CGL ha fatto suo e dichiarerà uno sciopero su questa parola, cioè della riduzione delle tasse. Allora, c'è da dire una cosa innanzitutto, la CUB è contraria a qualunque riduzione delle tasse, perché se noi vogliamo, ed è evidente che sia così, perché se noi vogliamo la scuola pubblica, le pensioni pubbliche, la sanità pubblica, bisogna che ci siano tante tasse, perché se no tutto questo non si sa con cosa venga finanziato. Quindi la parola d'ordine della riduzione delle tasse è una parola d'ordine della borghesia, dei piccoli commercianti, dei padroncini, non può essere una parola d'ordine dei lavoratori salariati, perché noi vogliamo un welfare state decente, che garantisca sanità, scuola, pensioni pubbliche. Detto questo, un conto è dire così, cioè quindi noi siamo contrari a una riduzione globale delle tasse, il problema vero è chi paga le tasse, cioè all'interno della società, nei vari strati sociali, nelle varie classi sociali, chi è che paga le tasse e chi no, e a chi fa a pagare le tasse. Questa tabella, sempre del sole 24 ore, indica la percentuale, la linea rossa è quella più interessante, è la percentuale delle entrate IRPEF da lavoratori dipendenti, cioè dal lavoro salariato. Come si vede, si passa dal 93, da un 68% al 74% del 2008, quindi anche da questo punto di vista c'è stato un aumento delle tasse sul lavoro dipendente, ergo c'è stata una riduzione delle tasse su tutte le altre classi della società, no? Che un gioielliere dichiari lo stesso reddito di un lavoratore precario è una cosa che fa ridere. Quindi, se sulle tasse bisogna fare una battaglia e bisogna farla, bisogna dire che bisogna pagare più tasse e soprattutto che bisogna farle pagare a chi guadagna di più e abbassarle a chi guadagna di meno. Cioè non si può fare una roba populista per cui dice, beh, paghiamo meno tasse e tutti sono contenti, questa è una roba demagogica e lasciamola alla destra fare, no? Noi quello che dobbiamo dire è che vogliamo il welfare, per fare il welfare, quindi scuola, pensioni, sanità, ci vogliono le tasse, queste tasse le devono pagare i ricchi, cioè chi guadagna di più, i redditi più alti e abbassarla ai lavoratori pensionati, ai precari. L'ultimo aspetto che noi vogliamo considerare anche attraverso l'aiuto dei dati è quello della produttività, perché un argomento che viene usato contro i lavoratori è che, sì, è vero che i salari in Italia sono aumentati di meno, sono diminuiti, però è anche vero che la produttività in Italia è più bassa che dalle altre parti in Europa. Adesso cercheremo di smontare questo argomento iniziando da questa tabella. Che sono le ore di lavoro annue per addetto nei vari paesi europei e extraeuropei? Questo è sempre OXE. Allora, come si vede, in Italia si lavorano 1800 ore all'anno, cioè è uno dei paesi in cui si lavora di più. La media dell'OXE è 1777 e la media dei 15 paesi principali dell'Europa è addirittura 1625. Quindi, da questo punto di vista, non si può dire che in Italia si lavora poco. In Italia si lavora come in Turchia, come in Ungheria, come in Grecia, come in Corea, cioè i paesi più arretrati. Mentre i paesi avanzati, guardate la Francia, 1564, o la Germania, 1436. E' ovvio che questi paesi hanno avuto un impatto rispetto alla crisi molto migliore del nostro. Perché là c'è la riduzione d'orario, si lavora molto di meno, quindi non c'è bisogno di ricorrere a tutti questi milioni di ore di cassa integrazione. C'è da dire questo, quindi, che la produttività, tanto sbandierata dagli imprenditori nostrani, questi qui la intendono come far lavorare di più la gente in termini di ore e di ritmo di lavoro, cioè di intensità del lavoro. Di innovazioni tecnologiche, di nuovi macchinari, che è la vera produttività che dovrebbe aumentare la competitività italiana nei confronti internazionali, qui non c'è traccia. Vorrei portare qualche elemento ad integrazione del discorso della produttività che ha fatto Ernesto. Cioè, è vero che questo è un cavallo di battaglia utilizzato per cercare di giustificare la ragione per la quale i salari italiani sono più bassi di quelli degli altri paesi. Però dai dati che ci sono e che sono indiscutibili, perché pubblicati anche dall'Istat, non risulta che in Italia il livello della produttività sia così basso come denunciano le aziende. Il problema della produttività è un discorso molto complesso, in quanto dipende sia dallo stato tecnologico dell'azienda, ma in particolar modo anche dalla dimensione dell'azienda. Noi siamo un paese che ha più di 4 milioni di imprese, però la gran parte, oltre il 90%, ha meno di 10 dipendenti. In queste imprese, entro i parrucchieri, il barista, la lavanteria, dove andare a misurare la produttività diventa un affare molto complesso. Credo che per vedere la dinamica della produttività bisogna fare riferimento alle aziende con più di 250 dipendenti, perché sono quelle più organizzate dal punto di vista tecnologico e più in grado di fare investimenti in continuità, come presuppone ogni attività industriale. E in effetti, se si fa riferimento alle aziende con più di 250 dipendenti, vediamo che l'indice di produttività è tranquillamente in linea con quelle delle altre aziende europee. e addirittura nell'industria è due volte quella media nazionale. Anche il nuovo modello contrattuale legato al legame salario-produttività è un legame inico, in quanto prende a riferimento dei parametri che non sono nella disponibilità dei lavoratori e non sono nella disponibilità, diciamo così, della gran parte delle imprese. Grazie. Grazie.